gentili telespettatori buona giornata pasturazione la parola chiave ecco come vuole fermare la meloni si giorgio giorgio berlusconi no silvio berlusconi silvio berlusconi è evidentemente un problema per la costituzione del governo meloni ma anche non solo per la costituzione ma per il proseguo soprattutto per il proseguo e allora come si può fare a fermare silvio silvio difficilmente si possono costruire maggioranze alternative abbiamo visto che meloni e salvini che con chi si alleano con calenda impossibile col pd impossibile col movimento 5 stelle difficile impossibile e allora non ci può essere una maggioranza alternativa ma una eventuale implosione di forza italia potrebbe condurci dritti alle urne e allora come come fare per evitare questo bisogna accendere riflettori su forza italia i suoi deputati loro sono stati eletti in forza italia grazie al traino dei voti di fratelli d'italia e poi adesso c'è un sempre più concreto tramonto berlusconiano il partito è al crepuscolo ormai è quasi buio nel partito è quasi finita il partito sparirà come sparito il partito socialista la democrazia cristiana il partito comunista italiano come sparito tanti altri alleanza nazionale sparirà anche forza italia non c'è dubbio glorioso partito nato per gli affari personali di questo signore e molti italiani compreso io ci sono cascati negli anni 90 il tramonto come andare avanti cinque anni con un partito al tramonto allora visto che non si possono fare alleanze con altri partiti perché non non ci sono possibilità a questo punto questi senatori potrebbero passare con giorgia meloni l'idea poi di potenziare noi moderati puntellando con uomini di fratelli d'italia autentico magnete per garantire la transizione il passaggio di parlamentare di forza italia in area governista ovvero meloniana al posto che andare dalla meloni che berlusconi vedrebbe come uno sgarbo inaccettabile questi potrebbero andare potrebbero andare da noi moderati oppure al gruppo misto dicendo noi siamo fedeli a meloni ma per adesso stiamo nel gruppo misto ma votiamo per meloni se c'è ancora berlusconi con forza italia ancora nel centro-destra dopo questa scissione poi se non ci fosse più berlusconi che dice noi andiamo all'opposizione allora i parlamentari al posto che andare da noi moderati al gruppo misto possono andare direttamente in forza italia deputati che e parlamentari che hanno tutto l'interesse a continuare a prendere lo stipendio evidentemente tutto l'interesse di continuare a prendere il loro stipendio senza andare a casa con un governo caduto e allora sì il piano è proprio questo lasciare passare lasciar passare il tempo né far passare il tempo la pastorazione che avete visto nel titolo non è la pastorizia non c'entra niente con la pastorizia la pastorazione la pastorazione è l'affondamento di esche tu metti delle esche il governo comincia tu metti le basi la pastorazione mettere le esche pronte per quando berlusconi dica basta e tutti con le esche finiscono con meloni noi moderati eccetera cioè una sarebbe la sconfitta finale the final candle il conteggio finale la sconfitta finale berlusconi sconfitto con la russa berlusconi sconfitto con gli audio tutte quelle robe che ha macchinato qui la sconfitta definitiva berlusconi che dice io esco dal governo andiamo si gira e non c'è nessuno che va con lui ci va lui la fidanzata e la ronzulli anche la ronzulli a quel punto andando con berlusconi sarebbe finita politicamente e anche la fascina fascina e ronzulli seguendo berlusconi sarebbero tagliate fuori dalla politica perché quel partito forza italia si accelererebbe la sua sparizione sparito loro non avrebbero più nessun partito per essere di nuovo candidate e prendere un bello stipendio ecco ecco la pasturazione aspettare aspettare che le cose vadano avanti per un altro per un altro po per un altro poi in modo che le cose si sedimentino per qualche tempo e poi pronti a saltare tutti in fratelli d'italia e così questa è la in terzo luogo poi ci abbiamo abbiamo anche matteo salvini che per adesso è lì non dice niente pertanto il problema di salvini oggi è secondario tutti ci si immaginava che salvini diventasse il primo problema della meloni invece improvvisamente berlusconi ha sorpassato tutti ed è in testa tra i grandi invidiosi propriamente distaccato anni luce da tutti così la meloni deve guadagnare il tempo necessario per realizzare i primi passaggi fidelizzando così un numero sufficiente di parlamentari di area centrista per evitare il ritorno alle urne questa è è quello che sta succedendo ed è quello che stiamo vivendo la meloni è riuscita avete visto a fare leggere lo stesso la russa trovando 20 elettori a sinistra siamo rimasti tutti a bocca aperta perché ha dimostrato la meloni una capacità incredibile minaccia di berlusconi e improvvisamente lei arriva al giorno dopo con 20 voti in più presi esattamente non si sa dove ci deve essere lì un patto d'acciaio perché realmente non non si è saputo ancora oggi quei voti da dove siano arrivati grazie a tutti e buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti